l'abbiamo fatta cioè nel senso stiamo partendo veramente non lo so come andrà a finire questa avventura comunque siamo partiti direzione monterosa direzione più che direzione monterosa campana margherita intanto comunque il nostro arrivo è al rifugio gabier non so la pronuncia francese la nostra prima tappa siamo arrivati a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.